Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial di Rhinoceros. Ecco, io ho appena scaricato la versione 7, la nuova versione, work in progress di Rhinoceros messa a disposizione da MacNeil per i propri clienti. Andiamo subito ad aprire un oggetti grandi metri come template e oggi andremo a sviluppare il modello 3D di questo progetto qui. È un progetto attualmente bidimensionale su AutoCAD, noi lo andremo ad importare per poi sviluppare, appunto, estrudere le pareti e realizzare i diversi elementi architettonici. Ecco, questo qui è un'applicazione architettonica di Rhinoceros. Andiamo a spegnere tutti i layer che non ci servono. Perfetto, vi consiglio di andare a guardare la gestione dei layer di base tra i tutorial del mio canale. Andiamo a salvare e andiamo ad importare il file dvg con un semplice drag and drop su Rhinoceros. Quindi lo prendo, tasto sinistro premuto, vado su Rhinoceros e rilascio il tasto sinistro e faccio Importa File. Importo il file e Rhinoceros mi chiede subito alcune informazioni. Io qua faccio ignorare gli spessori, importo i velli senza riferimenti. Mi raccomando, l'unità del layer metri, l'unità del layout metri. Visto che stiamo importando un file in metri perché Autocad era impostato in metri, inseriamo metri anche su Rhinoceros in modo da importare il modello e mantenere l'unità di misura e la scala naturalmente. Vedete che anche tutti i layer che erano su Autocad si sono importati. Quindi vado ad eliminare anche quelli spenti che tanto non mi servono in modo da mantenere più ordinata la finestra dedicata ai layer. Cancello tutti quelli che non mi sono utili e lascio solamente i layer che mi serviranno per sviluppare il modello 3D. Faccio subito, dopo aver importato il file, faccio subito il mio primo salvataggio. Do il nome al mio file, salvo, perfetto, in modo da mettere al sicuro il file e da creare anche il file di backup che se si dovesse verificare una situazione di arresto improvviso del computer ho il file di backup e posso recuperare il mio file. Cominciamo subito a creare i layer che mi serviranno per sviluppare il mio modello 3D. Faccio un primo layer scritto muri, poi faccio un sotto layer con scritto MU che sta per muri, linee e un secondo sotto layer per muri e estrusione. Vado ad assegnare dei colori leggermente diversi ma con la stessa tonalità nel layer principale e vado a fare con il muro MU linee, vado praticamente a ridisegnare l'appartamento, in questo caso che non è in realtà un appartamento, è un'abitazione, un'unità familiare, una casa a torre come tipologia che mi è stata prestata da uno studente, questo è un progetto di uno studente di quinta superiore e vado praticamente a ricalcare con le polilinee il perimetro e anche l'interno del mio progetto, senza tener conto delle forometrie, cioè delle finestre e delle porte. Praticamente non faccio altro che ricalcare tutta la parte esterna e la parte interna di tutti i muri e le pareti interne appunto, senza praticamente passando sopra anche i fori delle porte e delle finestre. Qui utilizzo il rettangolo, perfetto, proseguo con la pianta del piano primo, anche qui utilizzo un rettangolo per tutto il perimetro esterno e poi in realtà potrei utilizzare invece delle polilinee, posso utilizzare altri rettangoli per fare queste stanze qui, qui prendo un riferimento, eccolo qua, poi utilizzo un rettangolo anche per questa stanza qui, qui non posso utilizzare il rettangolo, quindi ritorno alle polilinee. Ecco, si può utilizzare il rettangolo per la parte più esterna, ma il muro che delimita il vano della scala devo utilizzare delle polilinee, perfetto. Proseguo con la pianta del secondo piano, sempre vado di rettangolo, perfetto, rettangolo per questa stanza qui, e qui non posso più andare di rettangolo, devo procedere con delle polilinee. Quindi ricalco, ripasso sopra tutti i muri esterni ed interni, perfetto, ricalco anche questi qua, perfetto, perfetto, non mi rimane altro che ripassare la parete di copertura, però magari quella lì la faccio in un secondo momento. Faccio un secondo layer che lo chiamo forometrie. Per forometrie appunto intendo i fori per le finestre e le porte, poi faccio dei sotto layer, con scritto uno è PO che sta per porte linee, il secondo PO estrusione, estru, e poi che sta per finestre linee e finestre estrusione. Perché tutti questi layer, perché in realtà, perché lo capirete tra qualche minuto, però vi assicuro che con l'utilizzo, con questo tipo di gestione dei layer, andremo a facilitare tutto il lavoro per quanto riguarda poi l'estrusione e l'operazione booleane che effettueremo. Ecco, vi anticipo in realtà che con questo tutorial non andrò ad utilizzare tantissimi, tantissimi comandi, ma vi faccio vedere, vi mostro come con pochi comandi possiamo ottenere un lavoro ben fatto. Naturalmente, lo stesso lavoro che faremo in questo tutorial, posso farlo con tanti altri metodi, con tanti altri comandi. Ecco, qui seleziono il layer porte linee e vado a fare dei rettangoli in corrispondenza dei fori delle porte. Poi seleziono finestre linee e vado a fare dei rettangoli in corrispondenza delle aperture delle finestre. Ecco, l'operazione delle finestre e delle porte è molto più semplice perché si tratta tutto, si trattano, praticamente si tratta solo di rettangoli. Non devo andare a fare, ecco, qui mi sono appena accorto di un errore. Prima ho fatto un rettangolo con le linee dei muri, ma non ho rispettato l'andamento dei muri esterni in corrispondenza della finestra. Posso andare a inserire dei punti. Come vedete io posso anche andare a inserire dei punti di controllo con il comando che avete appena visto, dopodiché li vado ad adattare al percorso della parete. In questo modo qui ho corretto il mio errore. Quindi poi posso proseguire con il rettangolo della finestra. Ecco, queste finestre qui in realtà conviene farle, in questo caso, con delle poliline, quindi rispetto tutto il perimetro della finestra. Ecco, notate che io ho bloccato i layer di base, quelli là che ho importato da AutoCAD, in modo da non apportare delle modifiche magari involontarie. tanto gli snap, come vedete, funzionano ugualmente. Anche se sono bloccati, gli snap, vedete che il software rileva i punti di praticamente di riferimento delle linee nere, che sono appunto i layer importati da AutoCAD. Proseguo con fare i rettangoli delle finestre. Perfetto, se non sbaglio ci siamo, ho fatto appunto i muri, ho fatto le porte, ho fatto le finestre, direi che ci siamo. Possiamo proseguire con le prime estrusioni. Quindi passo alla finestra quattro viste, poi massimizzo la prospettica e vado, come prima cosa, vado a estrudere i muri. Quindi cosa faccio? Non vado a selezionarli uno per uno, naturalmente, visto che ho fatto un'ottima gestione dei layer, posso semplicemente, parto anzi con le finestre, posso semplicemente selezionare, in questo caso io blocco le linee dei muri, torno sulla superiore, seleziono le prime finestre della facciata. Ecco, queste finestre qui sono alte 2,70 m, tanto quanto il piano interno. Quindi vado su strumenti superfici, vado su estrusione lineare, clicco su sì, dopo aver selezionato naturalmente le finestre, i rettangoli delle finestre, cancella input no, in modo che poi mi rimane anche la linea di riferimento con cui sono partito, e vado ad estrudere appunto i rettangoli delle finestre di 2,70 m. Continuo poi con questa finestra che dà sul vano scala. Questa finestra qui in realtà è alta da terra 54 cm, perché come vedete ci sono i primi tre scalini. Quindi alzo il rettangolo utilizzando il gamba di 0,54 metri, dopodiché, siccome trapassa l'intera parete, dopodiché la vado ad estrudere, e le altre, in realtà nel piano primo va a completamente passare tutta la parete, la vado ad estrudere di 2,70 m. Mentre nell'ultimo piano, la finestra, in realtà, controlliamo un attimo le sezioni, vedete che c'è, nell'ultimo piano, in realtà non raggiunge la copertura, ma in realtà è più bassa. Quindi vediamo quanti sono questi qua. Sono 30 cm, quindi ecco, dovrò alzarla di 2,40 m. 2,70 m meno 30. Quindi di nuovo, seleziono il rettangolo, strumenti superfici, estrusione lineare, solido sì, e vado ad inserire 2,4. Perfetto. Mi starete chiedendo perché stiamo estrudendo intanto le finestre. Ecco, andiamo a controllare un attimo, andiamo a controllare l'altezza di tutte le altre finestre. Come vedete c'è un'altezza standard di 1,40 m, quindi è un'altezza da terra di 1 m. Quindi cosa faccio? Seleziono le finestre, a parte quelle leggermente inclinate sul prospetto est, e li vado ad alzare tramite il gamble di 1 m. metro. Poi vado a fare l'estrusione lineare, sempre solido sì, e li vado ad istruire di 1,40 m. Quindi 1,4 m. Vedete? Queste qua sono appunto le finestre. Vado poi a selezionare le finestre inclinate. Queste qui, come quella grande, sono alte 2,70 m. Quindi vanno a forare l'intera altezza del piano. Spengo poi le linee di estrusione delle finestre, spengo anche le linee delle finestre e mi dedico adesso alle porte. Le porte, fatta eccezione della porta d'ingresso che è alta 2,40 m, quindi la vado ad istruire di 2,4 m. Tutto il resto delle porte ha un'altezza standard di 2,10 m. Quindi sempre solido sì, 2,10 m. Ed è fatta. Ecco qui. Queste qua sono appunto le porte. Non mi rimane altro che andare ad estrudere le pareti, quindi i muri interni e i muri esterni, per poi applicare un'operazione booleana di differenza per creare i fori all'interno di queste pareti. Quindi seleziono tutte le pareti, spengo gli altri layer. Solido sì, 2,70 m. Invio. Ed ecco qui. Le nostre pareti estruse rispettando naturalmente le piante originali. Non mi rimane altro appunto per creare, per ricavare i fori delle finestre che andare a riaccendere i layer PO estruse, PO, FI e finestre estruse. Poi vado su strumenti soliti, operazione booleana, differenza booleana, seleziono. Seleziono i superfici sottrarre sono i muri, quindi tasto adesso su layer, seleziono oggetti. Sto lì a selezionare uno a uno. Poi il mio seleziona gli oggetti di differenza. Vado a selezionare sempre tramite layer, seleziono oggetti. Tasto adesso su layer, seleziono oggetti. Dopodiché, dopo aver applicato il comando, spengo i layer dei fori, quindi delle finestre e delle porte e vedete che sulle pareti sono ben visibili adesso le aperture e i fori in corrispondenza dei solidi che ho appena sottratto, appunto porte e finestre. Vedete come inizia in qualche modo a prendere forma. Perfetto. Proseguiamo adesso. Cosa manca? Naturalmente il solaio. Anzi, i solai. Perché dobbiamo fare due solai di interpiano, tra il piano terra e il piano primo, il piano primo e il piano secondo. Dopodiché dovremo fare invece il solaio di copertura. Chiamiamolo appunto solaio di copertura. Vado a fare il solaio SO come sottogruppo interno, inter, non è il caso, inter, va benissimo, e poi SO copertura. Utilizzo direttamente il comando del parallelepipedo, faccio il rettangolo grande quanto la pianta e poi estrudo, in questo caso di 0.36 metri. Faccio la stessa cosa con la pianta del piano primo. Invece per la pianta finale, dove devo inserire la copertura, vado ad utilizzare il riferimento appunto della pianta di copertura originale di AutoCAD. Quindi vado direttamente a fare un parallelepipedo in corrispondenza di quella pianta lì e poi non mi rimane altro che spostarlo. Quindi comando sposta, prendo un punto di riferimento e lo vado ad inserire sopra l'ultima pianta. Come vedete, ha uno sbalzo che funge da copertura dell'ultimo terrazzino, nella facciata principale. Vado poi a estrarre i bordi, perché devo creare un piccolo cordolo sulla copertura, quindi vado ad estrarre i bordi dal parallelepipedo, una volta che confermo diventeranno delle vere e proprie linee. E poi non mi rimane che fare un offset verso l'interno. Quindi spengo momentaneamente con visibilità il parallelepipedo, unisco le quattro linee che ho estratto dal parallelepipedo e poi faccio un offset di 0.4. 40 cm. Perfetto, come vedete, ci sono i due rettangoli, sono di superfici, estrusione lineare, solido sì e vado a estrudere di 0.30. Così ho ottenuto, riaccendo, mostro oggetti, appunto riaccendo il parallelepipedo che avevo momentaneamente spento e, come vedete, ho ottenuto anche il cordolo. Perfetto. Cosa potrei... vedete, ecco, sul solaio manca la differenza della finestra, perché questa finestra praticamente percorre l'intera facciata dal piano terra al piano secondo. Quindi non mi rimane altro che fare la differenza anche su questo parallelepipedo che rappresenta appunto il solaio. perfetto. Vedete, adesso la finestra viene rispettata. Anche se in realtà poi dovrò nuovamente fare una differenza con questo parallelepipedo per ricavare il foro del vano scala. Faccio un'altra differenza utilizzando, come vedete, il parallelepipedo che ho ricavato prima dalla finestra. Ecco, per questo io non cancello l'input. Lascio non cancellare l'input in modo che se mi dovesse ritornare utile, basta riaccendere il layer e riutilizzarlo appunto per i miei bisogni, appunto se mi dovessi avere bisogno. Perfetto. Vado a creare un nuovo layer con scritto scale e vado ad attivare, vado a fare i diversi layer, sotto layer. Faccio sc struttura linee, sc struttura estrusione, quindi estro, poi sc.vano.linee e anche in questo caso farò un altro sc, vano, estro. Perfetto. Vado ad inserire dei colori sulla stessa o quantomeno simile tonalità, vado sul verde in questo caso. Ecco, vedete che non ho inserito in realtà come sotto layer? Non è un problema, basta selezionarli e trascinarli col tasto sinistro e sopra il layer di riferimento, in automatico verranno inseriti come sotto layer, di quel layer lì, in questo caso scale. Adesso per ricavare il vano scala, vado a utilizzare sc vano linee, vado con delle poliline e vado a ricalcare l'apertura appunto della scala. Perfetto. Vado poi con sc vano e estrusione, vado ad estrudere queste poliline sempre con estrusione lineare, ricordatevi di fare sempre solido, sì, sulla barra del prompt, dei comandi e vado ad estrarre per sicurezza, faccio 3 metri e 50, tanto a me non importa l'altezza, l'importante è che riesca in qualche modo a trapassare il solaio dei vari piani. In questo caso io devo andare ad eliminare il piano primo e il piano terra, perché il piano secondo poi non c'è più il foro perché c'è appunto la copertura. Riaccendo i due solai e vado nuovamente a fare sempre una differenza boleana, seleziono come oggetti da cui sottrarre i due solai, gli oggetti con cui sottrarre invece le estrusioni del vano scala che ho appena fatto. Vedete, una volta spento i layer, vedete che abbiamo ottenuto il foro in corrispondenza del vano scala, che va a collegare in altezza i diversi livelli del progetto. Dopodiché non mi rimane che, per quanto riguarda la scala, disegnare appunto la scala con le proprie pedate alzate. In questo caso andrò ad utilizzare la sezione di riferimento. Cosa faccio? Vado praticamente, ne approfitto della sezione ben fatta, vado a sbloccare i layer della sezione, non vado a ricalcare in questo caso, vado praticamente a selezionare, poi vado sul layer che mi interessa, dove mi interessa copiare questi elementi. In questo caso sarà struttura sc, struttura lineare e faccio tasto destro, copio oggetti sul livello. Riblocco di nuovo gli altri layer e vedete che invece di andare a ricalcare linea dopo linea, ho selezionato semplicemente gli oggetti e ho fatto copio oggetti sul livello. In questo caso sc, struttura lineare. Dopodiché vado ad unire, vado a completare, unire con il comando unisci tutte le linee, vado a creare una porilinea, un oggetto unico e proseguo con l'estrusione. Quindi strumenti sempre superfici, estrusione lineare e vado ad estrudere, in questo caso la scala è larga un metro, quindi uno. Ecco, vedete che ho sbagliato, non ho cambiato il layer dell'estrusione ma anche qui non è un problema. Basta selezionare l'oggetto, andare su scestro, tasto destro, cambia oggetto di livello, non copia ma cambia. Vedete che il colore è cambiato. Perfetto. Vado a ruotare l'oggetto, praticamente per metterlo in piedi. In questo caso per aiutarmi, per semplificare, vado sul layout di destra e vado a fare appunto una semplice rotazione dell'oggetto di 90 gradi. Perfetto. Vedete adesso la scala è nella corretta posizione. Però attenzione mancano gli scalini iniziali e gli scalini finali. Quindi mancano i due scalini dell'inizio della scala. Vado in questo caso a ricalcare in modo molto semplice e veloce i due scalini. Perfetto. Li vado ad estrudere, sempre con il layer SC struttura estru. Vado ad estrudere sempre di un metro, solito sì, un metro. Anche qui vado a selezionare l'oggetto, comando ruota 2D o 3D e vado a spostarmi sulla finestra destra in modo da prendere riferimento, sposto di 90, sposto, scusate anzi ruoto di 90 gradi. Poi ruoto di altri 90 gradi in modo da far corrispondere correttamente gli scalini alla rampa che ho appena estruso. Comando sposta a punto di riferimento e li vado a copiare in corrispondenza appunto della rampa principale. Perfetto. Tiro su per metterla sulla griglia di 0.54. Perfetto. Adesso mancano gli ultimi due scalini. Naturalmente io andrò a realizzare una sola scala che poi andrò a copiare anche sul primo piano. Mancano appunto gli altri due scalini. Cosa faccio? Vado a fare per adesso, poi magari apporterò le dovute modifiche, vado a fare la copia di questi due scalini e li vado semplicemente a spostare. Una volta realizzata la copia faccio comando sposta e li vado a spostare in corrispondenza dell'ultimo piano rotto. Vedete però che non corrisponde bene nel senso che non può esserci un elemento che si tocca solamente con l'angolina. Quindi cosa faccio? Vado a spostare la faccia del solido. Vado a spostare in questo caso la faccia del solido inferiore del modello che ho appena spostato in corrispondenza dello spessore del piano rotto. In modo da ottenere un, quantomeno, un oggetto più realistico sicuramente. Perfetto. Fatto questo non mi rimane che ruotare di 180 gradi la scala e andarla ad inserire all'interno delle piante. Vado a spegnere, andrei a spegnere appunto il layer muro estrusioni e vado a spostare la scala sempre col punto di riferimento in corrispondenza del punto di riferimento sulla pianta. Perfetto. Vedete che adesso la scala, vediamo se funziona con i solai. Ecco, i solai li ho fatti leggermente più alti. Questa qui è una scala con un'alzata di 18 cm e una petata di 29. Probabilmente ho sbagliato l'estrusione del solaio. Quindi cosa faccio? Anche qui faccio sposta faccia, vado a spegnere la faccia superiore del solaio e la vado a spostare in corrispondenza dell'ultimo scalino, dell'ultima petata. Perfetto. Dovrò fare naturalmente la stessa operazione con l'alto solaio ma in realtà poi penso di fare una copia piuttosto. L'unica cosa che mi dà leggermente fastidio è la sorposizione di diversi oggetti. I scalini e il solaio, vedete, che sono sovrapposti. Anche qui vado a fare una semplice differenza boleana e vado poi ad eliminare l'oggetto degli scalini in eccesso. Ecco, chiamiamolo in più. Perfetto. Così il tutto corrisponde perfettamente. Vedete che qui però è rimasto... Perché è rimasto? Perché il solaio ha uno spessore che non prendeva tutto l'oggetto degli scalini. Vado semplicemente a utilizzare sposta faccia e la vado a spostare in corrispondenza dell'ultimo scalino. Perfetto. Diciamo che così può anche andar bene. In realtà dovrei farlo inclinato. Vediamo, magari poi lo faccio in un secondo momento. Cancello il solaio del primo piano e vado invece a fare una copia del solaio e della scala direttamente... Vado ad unire tutti gli elementi. Ho fatto un'unione boleana. Vado a selezionare tutti gli elementi delle scale. Quindi i primi due scalini, gli ultimi due, la scala principale. Faccio unione boleana. Dopodiché faccio una copia. Seleziono il solaio e la scala e li vado a copiare in corrispondenza della pianta del primo piano. Quindi poi riaccendo di nuovo i muri. Verifico se il tutto funziona. L'unica cosa che a me non piace adesso è lo spessore eccessivo di questo pianerotolo qui nel caso del primo piano perché andrà ad interrompere bruscamente l'apertura lineare che percorre più che altro tutta l'abitazione. Però va bene. Per adesso lasciamo così. Quindi poi magari andremo a modificarla in un secondo momento. Quindi riaccendo, ricontrollo un attimo. Ecco, qui c'è un piccolo problema. Vedete che questo qui è un bagno. Vedete che in corrispondenza del bagno la scala non è chiusa. Vedete? Non è chiuso. Quindi chi passa... in questo caso se qualcuno passasse sopra la scala quando io sono magari in bagno praticamente risulteremo nella stessa stanza perché non c'è un muro di divisione. Quindi cosa vado a fare? Vado ad estrarre il bordo dell'inclinazione della scala. Quindi comando estrai bordo. Seleziono il bordo. Invio. Vedete che ho selezionato la curva. Dopodiché ecco una polilinea. Vado a ridisegnarmi praticamente l'apertura, l'attuale apertura, questo foro tra la scala e il bagno. Utilizzo gli snap corretti. Elimino vicino. Perfetto. Dovremmo esserci. Sì. Tocco il tasto sinistro del mouse e confermo la polilinea. Vado giù rispettando appunto anche utilizzando questo bordo di questa superficie. Perfetto. Fine. Dopodiché vado... vedete che... ok. Devo completare. Vado a fare una linea in corrispondenza di quest'ultima linea che ho fatto e poi vado a spostare in basso. Perfetto. Sposta. In modo da essere sicuri di aver fatto la linea correttamente. Perfetto. Spengo su visibilità. Spengo i muri posso spegnere in realtà anche... è corretto. Comunque la linea è corretta. Posso spegnere anche la scala. Vedete questo qui è il foro che devo chiudere. Quindi col comando tronca vado a tagliare praticamente le linee che non mi interessano. Le linee in eccesso. Perfetto. Vado a fare unisci. E non mi rimane che fare anche in questo caso un'estrusione lineare di questo oggetto. Perfetto. Lo sposto sul livello corretto. Strumenti superfici. Estrusione lineare. Lo vado a estudere. Basta anche di 0.10 metri. Quindi 10 cm. Perfetto. Adesso provo a riaccendere la scala. Attenzione. Ecco. Anche questo elemento qui non è il massimo. posso... anche qui posso effettuare la stessa operazione. Quindi muro linee. Vado a fare sempre delle polilinee in corrispondenza di questo triangolo. Perfetto. E poi lo andrò ad estrudere con lo stesso comando, sempre estrusione lineare, in corrispondenza della parete che ho appena fatto. Quindi di 10 cm. Perfetto. Riaccendo di nuovo la scala. Adesso sì. Adesso diciamo che sicuramente è più corretto. Esatto. Sì. Adesso risulta chiuso. Anche il sottoscala in realtà quelle altezze lì non saranno mai utilizzabili. Quindi non ha tanto senso lasciarle aperte. Anzi spesso poi risultano come spazi difficili da pulire. quindi cosa faccio? Vado, anche in quel caso, vado a chiudere in corrispondenza del muro. Quindi anche qui vado a fare lo spessore uguale al muro di riferimento. Sempre con muro linee. E poi vado ad estrudere. Sempre con l'estrusione lineare. Vado ad estrudere. Faccio... però adesso ho un'altezza. L'importante è che trapassi la scala. In questo caso mi interessa. Vedete? L'importante è che va oltre la scala in modo da utilizzare la scala come punto di riferimento per l'operazione boleana. Perfetto. Quindi, fatta questa, vado a fare operazione boleana sempre differenza. Oggetti da cui sottrarre quello rosso. Oggetti da sottrarre la scala. Spengo la scala. Vedete? Vedete che in corrispondenza della scala l'oggetto si è diviso grazie alla differenza boleana. Perfetto. Reattivo il tutto. Reattivo... vedete che adesso anche in quel caso lì risulta più corretto. Reattivo la scala. Reattivo i muri. Perfetto. Adesso direi che abbiamo sistemato il tutto. Ecco, questo qui è un grande pregio del tridimensionale. Quando vado a sviluppare un modello 3D mi accorgo di tante cose. Ad esempio, dalle piante questi piccoli dettagli a volte sfuggono. Perché nella pianta bidimensionale certi aspetti, magari se non si è ancora, soprattutto se non siete dei professionisti, diciamo, del disegno, molti aspetti sfuggono. Sicuramente il tridimensionale è di grande aiuto per quanto riguarda molti aspetti del progetto. Perché ci si rende conto di tanti magari piccoli dettagli che col disegno bidimensionale appunto sfuggono. Perfetto. Continuiamo col spostare. Adesso i vari piani uno sopra l'altro, sposto il primo piano sul piano terra e poi sposto, sempre il comando sposta, il piano secondo sul primo piano, quindi l'ultimo piano. Prendo sempre l'angolino come riferimento. Perfetto. Vedete che il tutto funziona? La scala è inserita in modo corretto. Proviamo a spegnere i muri, sì. Perfetto. La finestra che percorre tutto il piano scala funziona anche nella corretta posizione. Io direi che, vedete che inizia a prendere forma. Cosa manca? Manca sicuramente manca il basamento. Il basamento su cui poggia la nostra costruzione. Andrò a fare un nuovo layer con scritto basamento. Anche in questo caso andrò a fare BA linee e BA estru. E vado a fare praticamente con il comando rettangolo vado a fare il perimetro del basamento, il perimetro della costruzione e poi andrò a fare un offset di un metro. Quindi faccio il perimetro, strumenti curve, offset, 1. Ecco qui. Faccio verso l'esterno. Cancello la linea interna che ho fatto. Non mi serve più. Vado su BA estru e vado ad estrudere. Posso utilizzare anche direttamente il parallelepipedo in questo caso. Vertice, vertice, estrusione di 0.20. Perfetto. Riaccendo tutti gli altri layer. Quindi scale, solai e muri. Naturalmente devo alzarmi. Mi sposto sulla vista destra. Seleziono tutti i layer. Col gamble tiro su rispetto all'asse z di 0.20. In modo che la costruzione va ad appoggiarsi e non a sovrapporsi al basamento. Perfetto. Vedete come tutto inizia a prendere forma, ad avere un senso. Passiamo ai terrazzini. Adesso, quindi alla parte esterna, vedete che andiamo a guardare i prospetti di questo progetto. Ha due terrazzini e sia i due terrazzini che e il piano terra sono in qualche modo collegati da questa linea formata da diversi elementi verticali, come se andasse praticamente a collegare tutta la facciata principale. Quindi vado a fare un nuovo layer con scritto terrazzini, vado a fare i sotto layer con te linee, te estru e vado praticamente a ricavare. Faccio ancora altri layer con te differenze e poi capirete il perché adesso, anche se magari già lo immaginate. Vado sempre a dare dei colori sulla stessa tonalità di quello principale e con terrazzini e linee mi sposto. Vedete come funziona questa linea che segue tutta la facciata. Mi sposto sulla finestra frontale e vado a seguire. Siccome la facciata si trova tutto sullo stesso piano, non ho rischio di fare delle linee su piani diversi. L'unico rischio mio è quello del basamento, quindi adesso lo spengo. Vado a seguire le linee rappresentate dai muri e dai due solai. Quindi te linee, il layer corretto. Vado su standard, sul tab standard. Un attimo vado a verificare esatto. Vado sul vista frontale, tab standard. Anche la copertura in realtà ha un livello differente, quindi spengo anche la copertura. Faccio una linea di riferimento che rappresenterà questa linea qui. Vediamo quanto è spessa. Esatto, 0.40. Quindi quella lì sarà la mia linea di riferimento che andrò adesso a spostare di 0.4 tramite il gamble. E poi parto. Blocco tutti i layer che mi servono accesi ma non devo modificare. Quindi blocco il tutto e vado a selezionare il comando polilinea. Parto dall'angolo in basso. Faccio anche qui uno spessore di 0.4. Esatto. E poi con l'utilizzo, con l'aiuto dei solai in ciano, vado praticamente a ricavare la struttura appunto che percorre la facciata principale, in questo caso la facciata a sud e collega tutti i terrazzini del progetto. Perfetto. Completo questa linea qui. Esatto. Completo. Dopo sicuramente vado ad unire il tutto. Spengo tutto ciò che non mi serve. Scale, solai. Perfetto. Ecco qui la linea. Vado adesso con il comando tronca. Metto sul rosa magari si vede meglio. Perché adesso non è tanto visibile. Ma va bene così. Vado a selezionare il comando tronca. Prendo sempre i miei riferimenti. Taglio il primo. Ma questo no. Poi i riferimenti. Ecco taglio sempre col comando tronca che praticamente corrisponde dal taglia di AutoCAD. Riferimento. Taglio. Perfetto. E questa qui è la struttura corretta. Seleziono il tutto. Unisci. E adesso vado praticamente. Perfetto è una linea. Quindi ha rispettato perfettamente. Sono tutti sullo stesso piano. Questo qui è quanto è perfetto. È un metro e cinquanta. È profondo il terrazzino. Quindi vado con TE estru. Il layer che utilizzerò per l'estrusione. Anche in questo caso farò una semplice estrusione lineare. Quindi seleziono gli oggetti. Seleziono gli superfici. Estrusione. Solido. Sì. 1.5. Perfetto. Riaccendo adesso gli altri layer. Per verificare la correttezza dei terrazzini. Esatto. dovremmo esserci. Vedete che. Esatto. Vedete che corrisponde al prospetto previsto nel progetto iniziale. Perfetto. Naturalmente mancano ancora degli elementi. Oltre al parapetto che faremo successivamente. Mancano. Queste qui in realtà si tratta di elementi verticali come se fossero delle travi. Quindi cosa vado a fare? Vado a fare dei rettangoli in corrispondenza delle aperture, no? Delle fessure tra queste travi. E poi andrò a distruttere questi rettangoli e andrò a fare nuovamente una nuova, nuovamente una differenza boleana con diciamo l'estrusione che ho fatto prima. Queste aperture le trovo sia al piano terra ma anche al primo piano e al secondo. Quindi vado a copiare questi rettangoli. Dopodiché faccio, utilizzo il layer che ho creato appositamente TE differenza, estrusione lineare, seleziono tutti i rettangoli, invivo estrusione e hanno un'altezza di 2.7 uguale praticamente all'altezza del piano. Perfetto. Riattivo TE estru e non mi rimane che fare appunto la differenza boleana. Differenza boleana è oggetti da cui sottrarre TE estru, oggetti da sottrarre TE differenza. Quindi tasto destro, su layer, seleziono oggetti, spengo. Vedete che adesso ho praticamente applicato quella differenza e ho ottenuto le fessure su questi elementi verticali che vanno a collegare i diversi terrazzini. Direi che ci siamo. Perfetto. Il risultato mi piace, mi piace, sì. Sto sicuramente rispettando il progetto iniziale. Ecco, in realtà non del tutto. Attenzione, io ho portato alcune modifiche. Ho leggermente semplificato il progetto perché era un po' più complesso. Prevedeva anche una scala esterna che collegava alla copertura abitabile. Quindi in realtà sulla copertura c'era un altro parapetto che potevo per renderla appunto abitabile. Io ho eliminato la scala esterna e ho fatto una copertura semplice. Vado a fare un altro layer su, come sotto layer su terrazzini, che lo vado a chiamare TE parapetto. Vado a ricalcare con una polilinea il parapetto su una delle piante. Vado a distrudere di un metro, sempre a distruzione lineare, e poi vado a spostarlo in corrispondenza dell'angolino del terrazzina. Perfetto. Il progetto, ad esempio questo qui, è previsto un parapetto in vetro. Ecco, io in questo tutorial non applicherò nessun materiale, non farò nessun render. È una modellazione, diciamo, di base. È un progetto architettonico con una modellazione di base. Spengo tutto il tutto ciò che non mi serve. Io direi che ci siamo. Si può definire il progetto completo per questa prima modellazione di base. Vado a fare un nuovo layer con scritto oggetti a AutoCAD e vado ad inserire tutti i layer che ho utilizzato come riferimento. Vado a poi chiuderlo e lasciare la finestra dedicata ai layer molto più ordinata. E vado a vedere come funziona la vista renderizzata. Io direi che abbiamo ottenuto un ottimo risultato. è anche un bel progetto. Non è affatto male. Vedete come il tutto funziona. bonuscala è correttamente posizionato. Ecco, anche questa finestra che percorre tutto il bonuscala non è affatto male. L'unica cosa che ancora non mi convince è quel pianerottolo del primo piano. Però tutto il resto mi piace. Non è affatto male. Proviamo le diverse visualizzazioni. X-ray, tecnico, artistico. Non è male neanche l'artistico come visualizzazione. Penna, anche penna, non è affatto male. Artico e ray tracing. Che è già una visualizzazione un po' più complessa con le ombre molto più realistiche. Vedete che all'interno è più scuro. Perfetto. No, direi che va bene tranne per quanto riguarda quel solaio che adesso andrò. Ho appena deciso di andare a modificare. Vedete? Questo pianerottolo qui è troppo spesso. Quindi torno sull'ombreggiata. Spengo. Pensavate che era finito? Invece no. Quindi vado adesso a ridurre lo spessore di questo pianerottolo e renderlo come questo qui. Vedete? Quindi cosa faccio? Vado a prendere la linea con l'inclinazione di riferimento della rampa principale. Vado a riattivare le aere che mi servono. Vado a sbloccarli. Comando linee. Polilinee. Esatto. Vado a fare una linea seguendo la stessa inclinazione. Una linea che poi ruoterò in 90 gradi e la andrò a spostare. Sposta in corrispondenza del pianerottolo che devo e che voglio modificare. Perfetto. Anche qui. Così non mi comincia neanche. Ecco anche questo foro qui in basso non è affatto corretto. Non va bene. E cosa faccio? Intanto sposto la faccia. Esatto. Rendendolo attualmente più spesso ancora. Però adesso andrò a tagliare. Poi cosa faccio? Posso andare sicuramente a modificare. Esatto. Sì. Utilizzerò questa linea che ho appena spostato per tagliare sempre tramite una differenza boleana o comunque un'operazione boleana questi oggetti qua. Vado a fare all'incirca un po' ad occhio. Ecco non devo essere preciso al millimetro. Vado a fare... vado a crearmi praticamente tramite le varie finestre delle linee di riferimento. Attenzione ho fatto questa linea dritta lì che taglia dal solaio alla rampa con i due scalini. Vado a fare un'altra linea che taglia poi il pianerottolo. Adesso spengo la scala. Vedete cosa ho fatto? Ho fatto queste linee qui. Adesso cosa faccio? Sempre col comando tronca taglio le linee in eccesso. Taglio anche questa piccola qui. Taglio poi anche quell'altra lì che non mi serve. Questo qua sarà praticamente il profilo che avrà il mio pianerottolo. L'unica cosa è che devo allungare sicuramente queste linee qui per farla passare sopra l'intero pianerottolo. Perfetto. Adesso andrò ad estrudere questa linea qui, queste linee che ho appena fatto, in modo da creare una superficie e tagliare il pianerottolo. Quindi cosa faccio? Spengo con visibilità... faccio direttamente l'estrusione. Quindi seleziono le linee che ho fatto, invio e vado a creare questa superficie qui. Vedete? Superficie che poi vado a spostare. Attenzione, li sposto tutti assieme. Un, due e tre. Unisci. Perfetto. Così sono un unico elemento. Vado a spostare in corrispondenza il taglio che voglio effettuare e proseguo poi con l'operazione boleana. Prima andiamo a fare tronca. Tronca è oggetto di riferimento della superficie. Tronco, elimino. Però vedete che con tronca la superficie che rimane, rimane aperta, non è chiusa. Quindi vado a fare un'operazione boleana su divisione boleana. Ho oggetti da suddividere la scala, oggetti su divisione la superficie. In questo caso, vedete, gli oggetti vengono divisi, ma entrambi risultano chiusi. Perfetto. Vedete che adesso il vano scala è comunque chiuso sotto, rimane aperto come col comando tronca. Provo a renderizzare, provo a riaccendere tutti i layer, quindi muri, solai. Io direi che adesso si è molto più pulita come rappresentazione è. Sicuramente risulta più delicata rispetto a prima che avevo uno spessore eccessivo. Perfetto. Adesso direi che abbiamo concluso il layer. Richiudo di nuovo tutti i layer per lasciare tutto ordinato. Direi che forse potrei mostrarvi ancora una cosa. Ecco, un altro vantaggio di sviluppare un tridimensionale di un progetto come in questo caso è quello di avere un'idea sicuramente più completa del progetto, ma così come Rhino, ma così come tanti altri software, vi permettono di fare delle sezioni istantanee. Con Rhino si fa sul layout vista, sezione, ho fatto il layer apposta, prospettica. Vedete questo piano qui? Questo piano qui non è altro che un piano di sezione. Se io vado a passare sopra, lo vado a sovrapporre al mio progetto, in questo caso ai miei soldi, alle mie superfici, attenzione che poi vado su proprietà, lo devo attivare, devo attivare la sua funzione sulle diverse viste, su prospettica. Adesso l'ho attivata, vedete che come si vede, vedete se scorro il piano, posso vedere la sezione. Quante volte si sbaglia la sezione dell'ibidimensionale perché non ci si rende conto o si dimentica di alcuni oggetti. Posso anche invertire, flip direction mi permette di invertire il piano. Adesso se io, vedete, ecco questa è la classica sezione che andrei a fare sulle scale, no? Vado a impostare la vista sul posteriore, vedete? Vado a cambiare la modalità di visualizzazione renderizzata, vedete come riesco ad ottenere una visione chiara del mio progetto. Anche inoltre, posso fare anche diverse modalità di visualizzazione, inoltre Rhinoceros vi evidenzia correttamente tutte le linee sezionate. Vedete che le linee sezionate sono più spesse come dovrebbe essere, come prevedono più che altro le regole tecnico-grafiche del disegno. Posso poi, eh, flip direction, posso ricambiare di nuovo la direzione del piano. Prospettica, vedete? Attenzione, vedete che cambiando da retro-prospettica il piano si è un attimo ruotato. Semplicemente posso andare su layout e viste e reimpostare le quattro viste principali in modo da reimpostare anche il piano. Perfetto. Proviamo, ecco, vedete che vi posso vedere veramente, posso avere un'idea veramente completa di tutto il progetto. Faccio renderizzata sulla destra, inquadro tutto il progetto e provo a fare adesso un altro piano di sezione. Destra, vedete? Se lo applico in tutte le finestre, vedrò in tutte le finestre il mio progetto sezionato, sia sulla destra, sia sulla frontale, sia sulla superiore. Vedete? Eh, non è affatto male. Non è affatto male come comando e come funziona, non è affatto male. Vedete? Posso disattivare e attivare il piano nelle finestre che mi interessano. Facciamo un'altra sezione ancora, in questo caso, della vista destra. Anche qui posso poi spostarlo, mi aiuto con la vista superiore. Lo sposto in corrispondenza dell'abitazione. Anche qui lo attivo su tutte le viste. Vedete? Ho fatto l'altra sezione. Non è affatto male. Con questo vi lascio e spero sia stato tutto chiaro. Mettete, se avete dei dubbi, commentate, mettete il like, attenzione al canale, seguitelo e ci vediamo presto.